una vincinanza con la Terra. Marte, inoltre, appunto, come abbiamo detto, è uno dei pianeti più studiati, su cui sono atterrati i rover, diversi rover. Cioè, hanno provato ad atterrare anche su Venere, appunto, come abbiamo visto, ma con scarsi risultati. Tra i più importanti, ricordiamo, le missioni poi più importanti sono dagli anni 70 a oggi. Ricordiamo le sonde Viking 1 e 2, atterrate a metà degli anni 70. E, per prelevare i campioni di roccia e cercare segni di vita, appunto, ancora sperando che Schiapparelli non si fosse sbagliato. Inoltre, i diversi rover che hanno esplorato la superficie di Venere, come il rover Pathfinder o Exploration, per non parlare di tutte le sonde in orbita per studiare la superficie e l'atmosfera, o anche le future missioni che, attraverso Elon Musk, arriveranno forse a costruire anche una base direttamente su Marte, una base spaziale su Marte. E, una piccola parentesi, ricordiamo con particolare calore il rover Opportunity, che si è spento dopo diversi anni di attività. E i creatori di questa missione spaziale hanno avuto la brillante idea di fargli venire fuori la scritta, quando era alla fine della sua vita, della sua vita e della sua vita lavorativa, la scritta sul monitor con la mia batteria è bassa, si sta facendo buio. Quindi, ovviamente, un piccolo robot, ma con un grande cuore. Mentre, se ci facciamo caso, nell'estate, questa appena passata, c'è stata una vera e propria invasione marziana, come definisce Amedeo Balbi. Infatti, sfruttando l'opposizione, ben tre agenzie spaziali, quali Emirati Arabi, Cina e America, ha deciso di puntare su Marte per, appunto, inviare tre missioni spaziali e l'America, quest'ultimo, ha deciso di alzare la posta portando su Marte un nuovo rover e anche un mini drone elicottero che proverà per la prima volta a sfidare l'atmosfera marziana con piccoli voli. E, se avrà successo, avrà la possibilità di studiare l'atmosfera marziana e di studiare, in particolar modo, Marte con un approccio differente. Quindi, anche mandare dei droni che riescono a sorvolare Marte invece che soltanto muoversi sulla superficie, quindi limitando, comunque, i nostri movimenti, questi saranno un nuovo modo per riuscire a studiare Marte. Bene, anche oggi io spero di non avervi troppo annoiato, un pochino mi sono perso in alcuni casi, ma va bene. Noi, invece, ci rivediamo la settimana prossima con una nuova puntata su un gigante del nostro Sistema Solare, quindi Giove. Quindi usciamo dai pianeti rocciosi e entriamo, invece, nella parte più esterna del Sistema Solare parlando, appunto, di questo gigante. E anche stavolta vi lascio con la sonnificazione e io vi ricordo sempre che ci potete trovare sul sito planetario civico di Modena e su Instagram anche, dove mettiamo gli aggiornamenti se ci volete venire a trovare, quindi, siete sempre benvenuti. Adesso lascio la parola a Marte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.